Ciao a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo nuovamente in un episodio della MaulloCraft Che carino il nostro pollo là sopra Allora, cambiamo inquadratura subito, prima cosa da fare Ragazzoli, oggi non dovrebbero esserci intoppi, oggi dobbiamo come... Ciao Fuffi! Farò anche la cuccia tua, non ti preoccupare, prima o poi sei sulla lista delle cose da fare Allora, signori e signori, signori e signori, benvenuti a questo nuovo appuntamento aperto di Pepe Maullo Oggi se tutto va bene, sta calando il sole, porca miseria, meglio che andiamo a dormire subito Neanche il tempo di uscire e stiamo tornando a casa a dormire, bella così, bella così Ok ragazzoli, dopo una bella dormita, torniamo al lavoro, signori miei, torniamo al lavoro Allora, andiamo verso il magazzino, sperando, ripeto, che oggi non ci siano intoppi Che ieri è successo di tutto, è morto Gino 1, abbiamo Gino 2, avevamo i pillager dentro le mucche Cioè di tutto, ieri è successo di tutto praticamente Oggi dovrebbe sempre tutto normale, sempre avrebbe, signori, sempre avrebbe Allora, se non sbaglio qui, devo metterci scalini, mi scordo sempre Allora, signori miei, siamo dentro il magazzino, Cosme lo organizziamo il magazzino Noi metteremo tutte le casse qua a giro, ma faremo ovviamente anche un piano superiore, signori miei E il piano superiore ce lo organizziamo ora subito, subito Allora, noi dobbiamo considerare tre casse, quindi una, due, la terza cassa arriverà qua, giusto? Quindi a questa altezza di qua noi andremo a mettere il nostro piano superiore, signori Come lo facciamo il piano superiore? Il piano superiore lo facciamo con tutti gli slab Bello così, con tutti gli slab di betulla, così andiamo un attimino a spezzare tutta quanta la costruzione Sarà una cosa molto veloce, signori miei, non vi preoccupate, non vi preoccupate Allora, il piano dovrebbe essere questo, dobbiamo semplicemente capire se lo slab va messo sopra o sotto No, deve essere messo per forza sopra, se no non posso calarci le, non posso metterci le, le ceste Mettiamo tutti i vari slab così, carini, che carini questi slab Leva queste torce, che ovviamente dovremmo mettere un puntino più basso per ora Mette una torcia qui e una torcia qui, così evitiamo lo spawn di mob, stessa cosa qui, quindi questa levala Facciamo questo giro così Ok Non vi preoccupate raga, non viene una cacata, promesso, promesso E quest'oltre dovrebbe venire un qualcosa di più carino Allora, questo è il piano dove dobbiamo arrivare noi Ora noi dobbiamo fare anche una scala però, signori miei Dobbiamo fare una scala La scala, attenzione, dobbiamo prendere un attimino le misure Allora, la scala dovremmo farla di slab Perché se no qui il gradino mi cozza praticamente Quindi, il gradino qui mi cozza Allora, dobbiamo fare una cosa Questo levalo Perfetto Allora, 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 allora La scala dovremmo fare così Perfetto Allora, mi devi dare un blocco sano di questo E lo andiamo a piazzare qui Sia questo qui che questo qui Quindi sta torcia mi sa che la dovremmo levare di nuovo No Ora, fatto questo Noi possiamo mettere invece gli scalini, signori miei Perché se noi gli scalini li mettiamo Mi ridai la terra Scusami zio, grazie Se noi gli scalini li mettiamo così Così E così Perdiamo le crafting table Ottimo Perdiamo le crafting table In più noi saliamo di qua E le casse dovremmo metterle in un'altra maniera Le dobbiamo mettere per lungo, raga Perché se io metto tre casse di qua Non ho minimamente come passarci Di qua dovremmo comunque fare il cordol Quindi sopra avrà un disegno diverso rispetto al sotto Allora, stiamo calmi Calma e sangue freddo Calma e sangue freddo Facciamo un po' di scalini Facciamo un po' di scalini Facciamo un po' di scalini, signori miei 4 4, 8 12 Forse mi basta un 12 Non lo so Vediamo cosa ne esce fuori Recuperiamo un attimino questa crafting table Che non deve finire a mare Mi raccomando Ce l'ho il legno Ce l'ho questo, va bene Sto a fare una cacciara ragazzi miei Una cacciara Tra legni che sembrano tutti uguali Allora, mettiamo un gradino qui Un gradino qui Un gradino qui Un gradino qui E siamo saliti al piano di sopra, signori miei Bella così Quindi al nostro interno Della nostra crafting table Avremo anche la scala Che ci porta al piano di sopra E la stessa cosa faremo qua Mettiamo una scala qui Una scala qui Una scala qui E una scala qui Che dobbiamo levare sta crafting table però La crafting table la leviamo Questa mettiamo qui Recuperiamo Gradino qui E siamo a posto Ok Leviamo questa terra Ok Abbiamo levato la terra E non so sinceramente qui come possiamo andare a decorare Ora qualcosa ci inventiamo Signori miei Certo così non è proprio bellissimo Quindi qualcosa dobbiamo inventarci Quindi qui abbiamo la scala che sale sopra Continuiamo a mettere gli slab Così Noi dobbiamo mettere le casse lì Qui sicuramente dobbiamo mettere un altro slab Come dobbiamo metterlo anche qui E qui E qui Perfetto Così noi poi saliamo E possiamo girare con le casse che metteremo così di faccia Quindi avremo due casse Due casse Due casse Due casse E uno spazio vuoto Perfetto Allora faremo Due casse Due casse Due casse E una crafting table in mezzo Raga Sì più o meno ci sta Ci sta Vediamo un attimino quanta Allora Vediamo facciamo così Sopra intanto si sta facendo il buio più totale Quindi dovremo un attimino anche Pensare al sopra Così Ovviamente possiamo anche farlo da tre Ma sì Ma chissene Ma chissene Ce l'abbiamo gli slab Li facciamo Li facciamo Deve essere carino Deve essere carino Allora Continuiamo Questa parte così Ok Giustamente la sopra Si sta creando il buio Ora vediamo un attimino Di illuminare la sopra Dammi due torce Prima che mi spawna Qualche malo mob O qualche malo creeper E mi fa esplodere tutto Signori mie Quindi Qui sopra L'abbiamo completato Potremmo mettere No Per lungo Non le possiamo mettere le casse Raga Dobbiamo mettere Tre di qua Due di qua Due di qua Due di una crafting table in mezzo E poi due di là Due di là Perfetto Perfetto Ora Ora Signori mie Calma e sangue freddo Calma e sangue freddo Dobbiamo trovare una decorazione Per qua Che io direi Intanto di metterci La betulla normale A chiudere questi No Sapete che possiamo fare Possiamo fare i gradini al rovescio Ma lo metti così Bello I gradini al rovescio Secondo me Ci stanno Meglio che i gradini Che il blocco Normale Non così Brutto Pirla Si può dire pirla Non lo so Sinceramente Non ne ho la più Pace di idea Ma non lo so Così 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 Questa torcia La leve Ci metti uno slab Perfetto Stessa cosa qui Ci metti uno slab E ora andiamo a mettere i gradini Per completare Puro questo lato di qua Noi non abbiamo più Una crafting table La portata di mano E le crafting table Le metteremo qua Non sono più al centro Della nostra situazione Ma chissene Giusto Signori miei Proverbi della situazione Della nostra vita Ma chissene Allora Piliamo questo Facciamo così Questo non lo devi lavare Ok Quattro dovrebbero bastarmi Non mi ricordo sinceramente Ma penso di sì Penso che quattro dovrebbero bastarmi Ovvero Dobbiamo mettere uno qui Uno qui E uno No E uno da nessuna parte Perché ce l'abbiamo Ok dai Così è più carino Al massimo Qua Ci mettiamo Ci mettiamo Ci mettiamo Questi Sì Così facciamo anche un po' di movimento Ragazzi No Fanno tutto dello stesso colore E non mi piace Fammene un bel po' di questi Perfetto Mettimi questi così Prendimi Sciappami tutti questi Mettili qua Questi Mettili qua Questi Mettili qua Queste Ricciappali Ok E con questi qua Li mettiamo Qua signori miei Che ovviamente Giustamente Non ci stanno E mi sembra giusto Mi sembra giusto Che non ci stanno Messi così Fanno un po' casi Sinceramente Quindi mi devi mettere Un altro slabettino Qui E un altro slabettino Qui Dai Ora più o meno Ci stanno Ci stanno Ci stanno Ragazzi Così si capisce Che quantomeno Lì è sorretto Da questa Da questa cosa Volevo 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 anche mettere Questi qua Qua Così A giro Tanto le casse Le mettiamo Lì Così Facciamo una sorta Di protezione Ci sta Certo che ci sta Così Allora Facciamo un attimino Un attimo Di mente La gara Questo è tutto Un video unico Raga Non sto facendo Nessun taglio Che cosa Bellissima Allora Facciamo Qualche cassa Tanto c'ho Tanta di quella Legna Che mi ero partito Con buoni propositi E allora Facciamo tipo Una cassa qua Un'altra cassa qua Poi Abbiamo Uno Due Uno e due Si In mezzo Metteremo una Craft in table Si ci sta Ci sta Raga E poi sopra Potremo mettere Altre File di casse Altre File di casse Va bene Allora Faccio un altro Stack Raga Completo Tutta la Costruzione Delle casse Signori miei E ci vediamo Dopo Dopo Ok ragazzoli Allora Ho recuperato un po' Di casse Diciamo Ho fatto un po' Di casse E sopra Non ho fatto Grandi miglioramenti Comunque Torniamo verso Casa Verso Si Verso casa Verso il magazzino Che Dai dai È carina È carina È una mega cesta Un po' Stilizzata Stilizzata Però ci sta Dai ci sta Allora Qui dovremo anche Fare tutti i lampioni Tutte le cose Tutte le Mamma mia Quante cose Ancora dobbiamo Da fare Raga Allora Ho fatto 26 casse Raga 26 casse Che dovremmo Andare a disporre Praticamente Che andiamo a mettere Qua in mezzo Che possono tornare Sempre utili E la stessa cosa La facciamo Da questa parte 1 2 1 2 Crafting table Crafting table E poi 1 2 1 2 Allora Ho sentito Degli stani rumori O sono altri pillager Signori miei O c'è il venditore abusivo No Altri pillager Ma che cazzo Allora ci fanno Questi qua Allora Questi si stanno Vedere troppo spesso Raga Questa cosa non è buona Questa cosa Non è per niente buona Dovete morire Dovete morire male Dovete morire male Dovete morire Ai ai Te dammi lo standard Tanto la medizione Già ce l'avevo Mamma che mira Che c'era Amico mio Attacco all'alto E l'abbiamo ammazzato Ok Allora Questi pillager Stanno un attimino Iniziando a rompere le scatole Sono troppo presenti In questa serie E non va bene Non va bene Abbiamo un altro standard Raga Non cazzo Lo mettiamo Questo standard Non lo so E da qualche parte Ce lo inventeremo Dove mettere questo standard Allora Piazziamo le altre casse Le abbiamo messe sopra Sopra le abbiamo messe tutte Sì Allora Ho fatto gli altri bastoncini Gli altri sticchettini Con il quale andremo a chiudere Questa parte di qua Ok Così abbiamo La scala in sicurezza Signori mie La scala in sicurezza Non possiamo cascar sotto Ovviamente poi sopra Faremo altre casse Ogni cassa avrà La sua cornice Con il contenuto Al suo interno Queste altre 14 Spariamocela qua E siamo tutti contenti 1 2 No Come cazzo le hai messe Zio Mamma che le avevi messe Brutte Allora Sono 14 Verso a farne 2 di qua 2 di qua 2 di qua Sì Comunque di qua Ci si può passare Vediamo Continuiamo a metterle di qua 2 di qua 2 di qua 2 di qua Mi restano le ultime due Che mettiamo Boh Le mettiamo qua Ancora ce ne voglio una cassa Raga L'ultima cosa Che voglio fare con voi In live Signori miei È levare queste Torce Sì Spardare Sprecare Spardare Mi è uscito il siciliano Spardare Sprecare Un poco Di Ferro Fare Un pochetto Di Sono scemo Se ce le ho in mano Zio Se ce le hai in mano Non le puoi fare Fare un poco Di lanterne Raga Quante ne riusciamo a farne 6 Ok Fare un poco Di lanterne E Dopodiché Con questi Sticchettini Fare tipo Le posso attaccare Direttamente qua No Perché qui c'è lo slab Cazzarola è vero Dice lo slab Non le posso attaccare Quindi però A tetto Possiamo farle No A tetto Potremmo farle Anche se poi Un domani Raga voglio mettere Voglio mettere Ci sbatto la testa Se la metto lì Ci sbatto la testa Se la metto lì Secondo voi Sì Abbastanza Devo metterlo Uno più alto E Un domani Qua poi ci facciamo Tutta la cosa carina Di Con la Con la Con l'alluminite Raga Ma purtroppo L'alluminite Ancora Non ce l'ho Perché non sono andato Nel nether Anche se mi sto convincendo Ad andarci Raga Vedo di scaricare L'aggiornamento Della 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 1.16 E ci andiamo Nel nether Raga Dobbiamo Troppo voglio andare Nel nether Questa però Un po' più lunga Le posso fare E mettiamo La torcetta Qui Ok Facciamo la stessa cosa Dall'altro lato Facciamo la stessa cosa Da questa No La torcia lì Brutto Scemo Allora Devi mettere Lo stichettino Lo stichettino E la torcia Qui Così Ok Così Quanto meno abbiamo La bella illuminazione Qua sopra Non possiamo mettere Quello Ma ci mettiamo Due torce Non me le attacchi No Non mi attacca E se ti metto Questo così E ti metto La lanternina Qua così Dai Dai Ci sta Ci sta Ci sta Forse un po' più alto Dovremmo metterlo Raga Forse dovremmo mettere Un po' più alto Leva quella torcia Di là Se ha fatto Tutto Raga Io non faccio Progetti Come nelle altre serie Di minecraft Non faccio progetti Prima di fare le live Signori miei Prima di fare i video Live Ma perché tu fai Cioè C'è una lanterna Io direi che è tutto Io direi che è tutto Io direi che Aspettate Qua mi servono Però delle Delle Persilplate Due Grazie Gentilissimi Dammene due Siamo riusciti Più o meno A completare Il magazzino Signori miei Ovviamente Lo completerò Io off camera Signori miei Così Non farò vedere Il lavoro finito Dai L'illuminazione c'è La cosa è carina Dai Ci può stare Mi sono solamente Mettere delle torce La bellezza La bellezza Signori miei Detto questo ragazzoli Grazie per aver visto Questo video Aspettate che cambio L'inguatatura Così magari facciamo Una cosa più carina Detto questo ragazzoli Grazie per aver guardato Questo video Grazie per i like Per i commenti E per i suggerimenti Noi ci vediamo domani Sempre qui sul canale Per qualche altro contenuto Bella raga Ciao Che stava a romper La porta Ciao Ciao